Quello che abbiamo ottenuto dopo aver fatto il taglio, come vi ho fatto vedere nel video precedente, è presso a poco questo, e cioè con il grosso dei bordi superiori tolto. Eccovi, vi faccio vedere come è venuto, è piuttosto grossolano, però con l'aiuto poi di questo strumento qua, che si chiama surfon, e questo è un normale, faremo questo lavoro per pareggiare completamente. E ottenere una superficie più o meno regolare.